A che cosa stai pensando? Che la cavalleria ha sempre il suo fascino. Allora ci arruoliamo insieme! Non è nostra questa fottuta guerra? Come sarebbe? Non è nostra! È una guerra inglese! E che c'entriamo? Gli anni spezzati. Mi vergognerei di me se non combattessi. Questo dimostra solo una cosa, che io e te siamo diversi. Da luoghi che forse non avete mai sentito nominare, una storia che non dimenticherete mai. Largo! No! Un film di Peter Biel. Che vuoi? No! Gli anni spezzati.